Buongiorno a tutti, io sono Loredana Sciolla, sono professore merito di sociologia all'Università degli Studi di Torino. L'argomento che affronterò è un argomento abbastanza complesso, ho dato un titolo Diritti umani e comunità di appartenenza, una contraposizione. Il punto interrogativo si spiegherà nel corso di questo breve intervento. Ora, se si fa una ricerca su Google, osserviamo che le pagine in italiano sui diritti umani sono oltre 31 milioni. Questo mostra un'espansione senza precedenti dell'interesse per questa tematica. D'altro canto, alla straordinaria attenzione che si è creata intorno ai diritti umani e alla loro difesa, che vede impegnati un crescente numero di persone, di organizzazioni, di istituzioni, corrisponde una certa genericità del termine. Come mai? Una delle ragioni principali sta nel fatto che i diritti si sono moltiplicati, enormemente ampliati nel corso del tempo. Come sostiene Norberto Bobbio, nella sua nota opera l'età dei diritti. Queste sono sue parole. I diritti dell'uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnati da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre. La loro tutela, anche quando si tratti di principi che a noi oggi paiono ovvi, del tutto scontati, come il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, eccetera, può avvenire solo se sono riconosciuti all'interno di un ordinamento giuridico. E non sempre ciò che è moralmente riconosciuto, lo è anche giuridicamente. Basti pensare alla Costituzione americana che proclamava solennemente i diritti dell'uomo, ma tra questi non erano menzionati i diritti degli indigeni e degli schiavi. C'è dunque un'evoluzione storica, di cui si possono individuare almeno tre fasi importanti. La prima fase è quella dei diritti di libertà e dei diritti civili, riferibili alla costruzione dei sistemi politici liberali, cioè fine Settecento ad arrivare anche a parte del Novecento. La seconda fase è quella dei diritti politici, il diritto di votare e di essere eletti, di associarsi in partiti e in sindacati. E questo avviene in corrispondenza con l'affermarsi dei sistemi democratici a suffragio universale, quindi ultimi decenni dell'Ottocento e primi del Novecento. C'è infine la terza fase, che è quella dei diritti sociali, diritto alla salute, alla pensione, all'istruzione, emersi nel Novecento e in continua evoluzione, anche oggi. Arriviamo quindi alla dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948, che è un po' il punto di partenza di questo intervento. Vediamo che il contesto storico e anche quello sociale in cui la dichiarazione fu approvata è molto importante. Intanto il contesto storico era quello della tragedia appena finita, che si voleva anche non si ripetesse più, della Seconda Guerra Mondiale, con i suoi 70 milioni di morti e della Shoah, l'infame massacro degli ebrei. Si voleva indicare proprio all'inizio della Guerra Fredda un accordo raggiunto, un sentire condiviso e un universalismo che andasse oltre i singoli stati. Si trattava di indicare un percorso, anche se la strada per la realizzazione delle libertà e dei principi, i vie espressi, erano ancora molto in salita. Ma bisogna ricordare anche il contesto sociale della dichiarazione universale. Una società moderna, sempre più individualistica, che almeno dall'affermarsi dello Stato moderno aveva abbandonato l'idea organicistica di società e rovesciato il rapporto Stato cittadini. Cito ancora una brevissima frase di Bobbio, dalla priorità dei doveri, dei sudditi, si passa alla priorità dei diritti del cittadino. Però si potrebbe dire che si va ancora oltre, perché? Dai diritti del cittadino, del singolo Stato, a quelli del cittadino del mondo. L'obiettivo era quello di favorire non il conflitto, ma il dialogo tra culture diverse, con l'idea che nei valori espressi si potessero riconoscere, almeno parzialmente, le grandi civiltà umane. Con la fine della guerra fredda, la diffusione dei conflitti etnici, dei conflitti tra maggioranze nazionali e minoranze interne, l'intensificarsi dei processi di globalizzazione, i crescenti flussi migratori che hanno interessato tutti i paesi europei, il contesto appare molto mutato da quello che ho indicato prima. Le società in cui viviamo sono caratterizzate da una sempre maggiore diversità culturale. In particolare si osservano due diversi tipi di differenze culturali che costituiscono fonti di potenziali conflitti, di potenziali divisioni. ad esempio per quanto riguarda i diritti linguistici, le rivendicazioni territoriali, i programmi educativi, ma anche di richieste di riconoscimento pubblico e giuridico delle loro diverse identità e pratiche etno-culturali. Seguendo l'analisi di Chimlica, un autore che ha trattato a lungo di queste tematiche, distinguerei tra due tipi di diversità che hanno un riferimento diretto al nostro tema, e cioè i gruppi etnici e le minoranze nazionali. Cominciamo con i gruppi etnici. I gruppi etnici sono legati ai flussi migratori. I grandi flussi migratori che dal sud e dall'est del mondo si dirigono verso il nord e l'ovest più sviluppati economicamente. Favorita dall'accelerarsi della globalizzazione, l'immigrazione, elemento vitale e costitutivo della vita degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia, oggi non è più confinata al nuovo mondo, ma coinvolge, anche se in misura diversa, i paesi europei, Italia compresa. I paesi occidentali che da più tempo sperimentano il fenomeno dell'immigrazione sul loro territorio, come gli Stati Uniti, fino agli anni Sessanta si aspettavano da parte degli immigrati l'assimilazione di norme, valori, linguaggio della propria cultura, quella americana. Era allora entrata nell'uso comune l'espressione americana melting pot, che vuol dire, in italiano vuol dire crogiolo, per indicare l'assimilazione delle diverse culture in un'unica grande cultura americana composta, prodotto potremmo dire, di questa miscelazione. A partire dagli anni Settanta, in seguito alle pressioni esercitate da gruppi consistenti di immigrati, il modello assimilazionista è stato per lo più abbandonato, a vantaggio di un atteggiamento più disponibile a consentire agli immigrati di conservare significativi aspetti della loro comune origine culturale, ad esempio la religione, l'abbigliamento, l'alimentazione, alcune festività, pratiche e forme associative. Società multietniche sono sempre esistite, sono esistite anche nel passato, intendiamoci. Il fatto nuovo della condizione attuale è che gruppi di immigrati esprimano a volte rivendicazioni in termini di identità collettiva, chiedendo riconoscimento giuridico e allocazioni di risorse da parte dello Stato di cui sono ospiti, al fine di preservare la propria specificità culturale. passiamo al secondo gruppo che è quello delle minoranze nazionali che provengono da un processo molto diverso, qui non si tratta più di immigrazione, ma si tratta della persistenza e della rivitalizzazione all'interno di un determinato Stato di comunità e di popoli contraddistinti da caratteristiche peculiari, linguistiche, religiose o di entrambi i tipi, caratterizzate da confini territoriali, che costituiscono quindi delle minoranze culturali che spesso esprimono, a differenza dei gruppi di immigrati, spinte autonomistiche, orientate alla costituzione di società nazionali distinte. La loro caratteristica è quella di essere gruppi con una storia alle spalle di assorbimento attraverso la conquista o la colonizzazione. Si possono fare a questo proposito numerosi esempi, anche molto diversi tra loro. Vi sono minoranze etniche negli Stati Uniti, dagli indiani d'America agli indigini delle Hawaii, ai portoricani, che mentre venivano assorbite acquisivano status politici speciali. Pensiamo al Canada, in cui vi sono ben tre gruppi nazionali, gli inglesi, i francesi e gli indigeni. In Europa ricordiamo le province basche della Spagna e l'Irlanda del Nord, in cui si sono sviluppati conflitti acuti basati su forti vincoli interni di solidarietà. Altri casi, ancora, sono quelli di antiche nazioni, che non hanno dimenticato la memoria storica dell'indipendenza, come la Scozia e la Catalogna. E ancora, pensiamo al revival etnico nei paesi dell'Europa dell'Est, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Attualmente, la maggior parte dei paesi presenta questo tipo di differenze culturali, che sono sempre più all'origine di questioni assai spinose e costituiscono una fonte di potenziali conflitti, in particolare tra le maggioranze e le autorità politiche di un determinato paese da un lato e le minoranze culturali dall'altro. Avvengono tra queste due parti contese sulla rivendicazione dei cosiddetti diritti collettivi. Termine molto contestato, che qui considero come sinonimo di diritti di gruppo. In quanto collettivi, in quanto non riguardano gli individui, ma i gruppi nella loro interezza. Dai diritti linguistici, all'autonomia dei programmi educativi, alle rivendicazioni territoriali e altro ancora. E' questa la grande sfida, anzi la più grande sfida, alla concezione della cittadinanza universalistica, basata sui diritti individuali, indipendenti da qualunque appartenenza particolare, che sia mai stata lanciata dal dopoguerra. Per descrivere entrambi i tipi di diversità culturale, o meglio etnoculturale, che sono stati menzionati, quindi ricordo quelli derivanti dall'immigrazione e quelli derivanti da processo di assorbimento per colonizzazione e conquista, si usa sempre più spesso, non solo nella letteratura scientifica, ma anche nel linguaggio dei media, l'espressione società multiculturale o multietnica. A volte estesa, fino a comprendere l'intero arco delle diversità, riconducibili a minoranze escluse. Ad esempio i portatori di handicap o i gay, o a settori sociali che comunque sperimentano condizioni disuguali, come le donne, in quanto condividerebbero la discriminazione sociale e la rivendicazione dell'identità. Ma perché questa situazione di un revival di identità collettive e delle loro rivendicazioni rappresenterebbe, secondo molti, una sfida alle democrazie liberali? Ad un primo sguardo, in realtà, le democrazie liberali sembrano ben attrezzate ad affrontare le minoranze culturali e le differenze culturali in genere. Molti liberali pensavano che la nuova importanza attribuita ai diritti umani avrebbe risolto anche i conflitti delle minoranze. Le minoranze, infatti, sarebbero state tutelate, non direttamente, conferendo cioè dei diritti speciali a loro, ma in maniera indiretta, mediante la garanzia di diritti fondamentali a ogni individuo, a prescindere dalle sue appartenenze di gruppo. Il diritto alla diversità culturale viene riconosciuto, cioè, secondo i liberali, questo tipo di autori, nell'ambito della sfera di azione della libertà di coscienza, entro cui ogni differenza è individualmente garantita. Se pensiamo, inoltre, ai diritti civili e politici di cui ho parlato prima, vediamo che si hanno dato davvero un contributo importante per mantenere, agli individui, per mantenere gruppi e associazioni e per promuovere gli interessi di questi ultimi nella società più ampia. E tuttavia, a partire dagli anni settanta, si è cominciato a pensare che ciò non fosse più sufficiente e che diritti differenziati per gruppo fossero necessarie per venire incontro alla differenziazione culturale e alle rivendicazioni a questa connesse. Ricordo che, in sostanza, ci sono più o meno due posizioni, semplifico molto, entrambe nel solco della tradizione liberale, che si sono fronteggiate in passato, perdendo oggi anche una parte della loro carica oppositiva, c'è una posizione di matrice comunitaria o multiculturale che sostiene che la tutela non deve riguardare solo le differenze culturali ascrivibili agli individui, ma anche salvaguardare le tradizioni, le attività, le pratiche riferibili alla comunità in quanto entità collettiva. Alla base di questa posizione c'è l'assunto che l'appartenenza a una cultura o a un contesto culturale sicuro sia un bene primario, fondamentale per una prospettiva di vita che possa essere considerata degna. Si vuole in altri termini tradurre in norme il riconoscimento del valore che l'appartenenza ha per il benessere e la realizzazione dei singoli. La seconda posizione, al contrario di questa, ritiene del tutto incompatibile sostenere la libertà e l'uguaglianza degli individui e accettare, almeno in parte, una differenziazione dei diritti in base all'appartenenza di gruppo. Diritti di gruppo sembrano infatti riflettere una concezione collettivista, organicista della società, superata, quasi un ritorno ai regimi feudali del passato. Alla base di questo approccio c'è l'idea che la giustizia richiede di essere completamente indifferente alle differenze. Tuttavia le cose non sono così nette. Vi sono molti malintesi a riguardo. Si può dire che gli sviluppi della normativa internazionale sui diritti umani abbiano inglobato in realtà riferimenti concreti al riconoscimento soprattutto delle differenze etniche, di genere, delle minoranze e l'abbiano inglobata nel concetto stesso di uguaglianza. Nell'Europa dell'Est, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, sono sorti conflitti violenti riguardanti l'autonomia locale, i diritti linguistici, i confini, le politiche di naturalizzazione. Anche l'Europa quindi ha dovuto occuparsi dei diritti delle minoranze che sono diventati un elemento centrale delle relazioni internazionali e quindi si è fatta sentire l'esigenza di integrare i diritti universali accordati agli individui a prescindere dalle loro appartenenze di gruppo con alcuni diritti differenziati proprio per gruppo. negli stessi preamboli dei patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici che è del 1966 e quello sui diritti economici, sociali e culturali che è del 1966 pur esso, che caratterizzano i diritti umani, i primi articoli di entrambi attribuiscono a tutti i popoli il diritto all'autodeterminazione, il diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali e il diritto a non essere privati dei propri mezzi di sussistenza. I diritti dei popoli sembrerebbero essere diritti di gruppo che pure figurano anche nei patti delle Nazioni Unite come diritti umani universali. I diritti umani in questo caso si tratta di diritti di terza generazione, così vengono chiamati, o solidarietà. Includono infatti i diritti a beni come lo sviluppo, la pace, un ambiente sano, la comunicazione, l'assistenza umanitaria e la partecipazione al patrimonio comune dell'umanità. Sono diritti a beni di natura collettiva e diritti che sono spesso sostenuti in modo più intellegibili dai gruppi che dagli individui. I diritti collettivi sono importanti anche nei diritti attribuiti alle popolazioni indigene, a volte descritti come una quarta generazione dei diritti umani. Gran parte dei diritti enunciati nella dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni dalle Nazioni Unite del 2007 sono diritti collettivi. Includono i diritti dei popoli indigeni all'autodeterminazione e altri diritti derivanti da tale diritto generale come il diritto di mantenere e rafforzare le loro distinte istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, il diritto che la loro cultura non sia distrutta, il diritto a non essere espulso con la forza dalle loro terre e territori e il diritto di praticare e rivitalizzare le loro tradizioni e costumi culturali. Nel linguaggio delle Nazioni Unite la dichiarazione è uno strumento per i diritti umani e i commentatori comunemente concepiscono i diritti che enuncia come diritti umani. In realtà, nonostante vi siano posizioni diverse, i diritti umani appaiono compatibili con le appartenenze e diversità culturale in tutti quei casi che ho elencati prima in cui il diritto collettivo si limita a definire delle tutele esterne che riguardano cioè la protezione dell'esistenza del gruppo e dell'impatto che decisioni esterne di tipo politico, economico potrebbero avere. Sorgono in questo caso delle complicazioni che qui però non possiamo trattare. In ogni caso appartenenti e diritti umani sono inconciliabili. difficilmente invece appaiono conciliabili in altri casi, e cioè in tutti quei casi in cui comunità etnoculturali esigono, al fine di preservare tradizioni e legami di appartenenza, delle restrizioni al proprio interno, usando il potere delle istituzioni pubbliche per circoscrivere la libertà dei loro membri. Si pone in questo caso il problema del contenuto delle culture cui si dà valore. Sorgono una serie di domande, degli interrogativi che qui enuncerò. Una società democratica liberale, ad esempio, deve rispettare una cultura suprematista che rivendica una superiorità razziale rispetto alle altre culture? E che dire di gruppi di immigrati o minoranze religiose che potrebbero esigere il potere giuridico di imporre pratiche culturali tradizionali ai loro membri, pratiche che violano i diritti individuali? Pensiamo, per non fare che qualche esempio, ma ce ne sarebbero moltissimi, alla pratica della mutilazione genitale femminile, del matrimonio combinato obbligatorio, alla discriminazione sessuale nell'ambito dell'istruzione. La delicatezza della questione è evidente, soprattutto in quegli stati, come la Gran Bretagna, in cui si sono sviluppati, per il massiccio insediamento di forti comunità islamiche, tribunali islamici che applicano la legge coranica nell'ambito del diritto di famiglia. Diritto di famiglia islamico che prevede, tra le altre cose, la poligamia, il divorzio talak, cioè il ripudio unilaterale da parte del marito e della moglie, con la semplice ripetizione per tre volte «Io divorzio da te». Questi tribunali, pur non essendo ufficialmente riconosciuti, sono diffusamente praticati e accettati. Essi sono in contraddizione con la dichiarazione dei diritti umani, in quanto violano palesemente l'uguaglianza di genere. La questione è assai complicata. Si possono generare conflitti culturali particolarmente drammatici. Prendiamo il caso che ho ricordato precedentemente, quello che è stato molto molto dibattuto in Europa, in Italia e anche in Italia, che è quello della mutilazione genitale femminile. La bambina ragazza, considerata come vittima di un crimine dalla società ospitante, è nella cultura del gruppo di appartenenza rispettata e accolta addirittura con cerimonie e festeggiamenti. Le ricerche che sono state fatte in questo campo hanno messo in luce che la maggior parte delle ragazze che hanno subito questa mutilazione, che è peraltro di diversi tipi, e qui non posso soffermarmi su queste diversità, ritiene il rituale come una parte fondamentale del proprio processo di formazione. Il rifiuto della mutilazione espone quindi le ragazze all'esclusione sociale dalla comunità di appartenenza. L'uscita dal gruppo, anche quando reso possibile dall'intervento dello Stato liberale, non significa solo lasciarsi alle spalle l'influenza coercitiva della comunità, ma anche rinunciare a una parte rilevante della propria identità. Ciò che in definitiva è in questione è la conciliazione tra un fondamentale diritto umano all'integrità del proprio corpo e il diritto dei gruppi a mantenere la propria identità, tra il rispetto della dignità della donna e il diritto all'appartenenza della donna stessa al sistema di valori di credenza che questo gruppo esprime. Di fronte a 500.000 donne che ancora nel 2009 erano state sottoposte a tale mutilazione in Europa, sono enormemente di più nel resto del mondo, particolarmente in Africa, in Asia. Quest'ultima, l'Europa, insieme all'Australia, Nuova Zelanda, Nord America, hanno a partire dagli anni 80 e 90 reso illegale questa pratica tradizionale, richiamandosi direttamente ai diritti umani universali. Ma è sorta anche un'opposizione a questa presa di posizione dei paesi, degli stati liberali. Questa opposizione critica è stata sostenuta soprattutto da gruppi di antropologi che hanno accusato questa posizione di colonialismo culturale. A sua volta questa posizione è stata criticata per il suo relativismo culturale, per mettere cioè sullo stesso piano valori di tipo molto eterogeneo, che minaccia l'idea stessa di diritti umani universali. La delicatezza della questione riguarda il fatto che la maggioranza degli stati europei, che hanno giustamente considerato la mutilazione come un crimine e un attacco all'integrità fisica e morale della persona, sottovalutano però un fatto, cioè la natura specifica rituale di questa pratica e l'assenza dell'intenzione di nuocere. Quindi che cosa bisogna dedurne? che bisognerebbe adottare accanto alle misure legali, misure non strettamente legali. E cioè misure non strettamente legali devono integrare quelle legali, perché l'azione non sia semplicemente punitiva, non appaia come tale, attraverso azioni preventive nel campo dell'informazione e dell'educazione, cosa che alcuni paesi come la Spagna hanno cominciato a sviluppare con successo. In conclusione, i diritti di gruppo sorti nel processo di moltiplicazione dei diritti, che ha caratterizzato la seconda metà del Novecento, possono entrare in conflitto con i diritti umani universali oppure trovare una conciliazione con essi. Possiamo dire che oltre alle due posizioni prima descritte come contrapposte, esiste anche una posizione che ha un tempo universalistica e promotrice, a certe condizioni, dei valori culturali legati all'appartenenza particolare. Queste condizioni, questi limiti, queste condizioni, sono fondamentalmente tre. che i diritti di gruppo non violino i diritti individuali fondamentali, libertà di parole, di pensiero, che non ci sia sopraffazione di un gruppo su altri gruppi. E terzo che non ci sia sopraffazione del gruppo sui singoli membri che la compongono. ad esempio che i singoli membri abbiano sempre il diritto e la possibilità di uscire liberamente dal gruppo. In sintesi, si può salvaguardare il diritto di un gruppo a mantenere le proprie tradizioni e valori, ma nel rispetto dei diritti umani fondamentali che contemplano anche il diritto di non essere oppressi e soffocati dalla comunità di appartenenza. La tutela dei diritti umani non può essere stesa a modi di essere e di credere che sistematicamente negano che tutti i membri della comunità abbiano titolo ad essere riconosciuti come soggetti di diritti umani. Spero che, nonostante il tema lo comprendo sia complesso, di avere sollevato alcuni interrogativi e questioni importanti che meritano certo ulteriori approfondimenti. Quindi vi ringrazio per avermi seguito in questo percorso e rivolgo a tutti gli ascoltatori un saluto.